Un eroico morciano strappi nuovi pareggio alla capolista Nova Feltia, una gara di alti tempi giocata su un campo quasi impraticabile con un privo tempo da buoni contenuti in una ripresa che non si è comunque giocato a una porta sola. Il Nuova Feltia è squadra che palestra il deficit di qualità ma in genere quando c'è da buttare il cuore oltre l'ostacolo i ragazzi di Fabria hanno una marcia in più rispetto agli avversari, mischi e calci piazzati, il gol arriva sempre. La zampata di Cupio al novantesimo sembrava aver scritto un'altra pagina entusiasmante del campionato di giallo-blu che però ancora una volta come con i Miramare e Granata sono stati beffati nel recupero. Li abrogiamo in nastro a comunale Big Match vede i locali privi di Frabuone e Gori, spazio a Mammutai e a Rapi mentre Morciano se li 4-2-3-1 con rotondi terminale offensivo, Brisigotti si accomoda invece in panchina. Il pivotio della partita arriva dopo 59 secondi Stefanelli dalla distanza siderale scalda i riflessi di Gabellini che blocca il petto senza problemi più incisiva la risposta degli ospiti a quarto minuto Taviani si accente e spara col mancello dal limite Semplini respinge male sui piedi dicevoli che spara le stelle da posizione più che favorevole risponde nuova fetta a 17esimo, Baldinini verticalizza di prima in profondità, un difensore di Morciano non trova la palla scivolata e Stefanelli di destra trova l'opposizione di Gabellini in uscita, il portiere bianco-rosso devia in corner evitando un gol fatto sul cross successivo dalla bandierina Stefanelli mette fuori di testa a 19esimo Ottaviani mostra le sue doti balistiche su punizione, Mancino morbido a scendere che colpisce la parte alta della traversa le due squadre non si risparmiano anche se il terreno di gioco è appesantito dalle piogge abbattute si dalla mattinata la prima frazione prosegue con un paio di tentativi dalla distanza di Stefanelli e Cupi senza però particolari pericolosità a inizio ripresa invece si verifica un ripresato chiave al 53esimo, Bencivenga viene espulso per doppia munizione Amadori toglie un attaccante, Rotondi inserendo il terzino sinistro Calesini e spostando Ubaldi al centro della difesa la punizione di Rinaldi invece termina alta, in Morciano si complica la vita al 59esimo, rimane addirittura 9 uomini Matteo Ceccaroni rimane da due gialli in un minuto, il secondo per proteste i locali possono iniziare a spingere sull'acceleratore, non si gioca comunque a una porta sola in Morciano sfiora la cramorosa beffa a 65esimo quando Stefanelli perde palla nella trequarta avversaria Pagnini parte in un'incredibile cost to cost saltando tre avversari superandosi in prima uscita con un tocco di destro Ceccaroni respinge nei pressi della linea e nel porcego dell'azione Ottaviani dal limite calcia con il mancino trovando la deviazione dell'estremo difensore avversario i giallobru di casa passato in pericolo aumentano la pressione e mancano di pochi gols e statottesimo con un colpo di testi fattori che termina di poco a lato Preggevoli, cross di Cupi dalla destra, il duetto tra i due, prosegue, cross alla sotera, botta di prima intenzione di fattori Gabellini blocca, lo stesso esterno destro, l'ottantunesimo, correggirete un cross di fattori l'arbitro annulla per fuori gioco, è al minuto 42, guardate bene quest'azione perché il Morciano farà poco dopo Coppia e incolla, Brisigotti va via sulla destra, attraversione al centro e tutto solo Volponi Ma Ceccaroni ci mette una pezza, finale dalle mille emozioni, a novantesimo un lancio lungo trova la sponda di Stefano in aria Cupi sotto porta, non perdona, i tre punti sembrano in cassaforte ma a novantacinquesimo Longoni affonda sulla sinistra e mette al centro Capitan Tenti, tutto solo calcia in porta La palla si spegnerebbe tra i guanti di Semprini ma Fattori, distinto, si allunga e scivolata e infila la propria porta 2018, quattro partite per il Nuova Filtra e la difesa meno battuta del torneo subisce quanto tutti i giorni d'andata e soffre la sindrome della zona cesarina e della superiorità numerica Tra Miramara e Morciano, l'uomo, anzi doppio uomo in più, fa male a Nuova Filtra Allora qui entra in vigore la legge Boscov e Lidob quando osavano dire in certe giornate storte squadra gioca bene quando gioca in 10 ma in 9, risposta rimandata in notturna mercoledì 21 febbraio ne recupero con il San Cremente